Siamo nel museo delle bambole di Pinerolo, un museo, una stanza che raccoglie le bambole appunto di un'epoca passata e in realtà adesso con Io sono qui possiamo anche vedere bambole un po' più recenti, vero Marco? Sì, le bambole del passato, i costumi tradizionali dialogano con delle bambole giocose che sono in realtà delle drag queen su cui ho fatto degli interventi pittorici su delle fotografie, parafrasando la canzone di Patti Bravo, la bambola appunto e quindi è un gioco di guardarsi una con l'altro. Quindi questo è un lavoro che state finendo di allestire, vedo. Quanti sono Marco? Sono dieci, appunto proprio come la canzone di Patti Bravo tra le dieci bambole, queste sono le mie dieci bambole diciamo un po' alternative ecco, si rivisitate. Il concetto di bambola quindi visto anche non solo come un oggetto. Non si è stante, ma è un oggetto vivo e in questo caso è la drag queen che è giocosa, gioiosa e ci vuole il giorno d'oggi un po' di allegria. Allegria e colore dimostra dall'8 all'11 di settembre qui nel Museo delle Bambole con Marco Darold e io sono qui, perché io sono qui Elena? Io sono qui perché l'io in questo momento è molto importante, ma non in un modo narcisistico. Noi ci siamo, vogliamo che gli altri lo sappiano, che ci sia un movimento e un dialogo fra tutti questi io, perché noi non siamo nessuno, siamo io.